Noi abbiamo voluto creare questa mostra incentrata proprio sul tema della natura, natura-naturans e quindi mutuando questa espressione di Spinoza, quindi di questo filosofo straordinario che focalizza il tema della generazione e della trasformazione stessa della natura. Quindi abbiamo individuato due artisti, un artista e un artista della collezione Panza che fa parte della terza collezione, quindi degli anni Ottanta, quindi abbiamo detto facciamo dialogare un artista che arriva da quell'esperienza, quindi all'esperienza di Giuseppe Panza insieme invece a un artista, a Roxy Pendio, sicuramente più giovane, la generazione del 66 che lavora con linguaggi completamente diversi ma anche lui che si concentra sui processi naturali e quindi sulla nascita, la trasformazione e la degenerazione della natura. Li abbiamo fatti incontrare all'inizio per aprire questi due dialoghi nella galleria e nel piano terra e poi abbiamo diviso le loro creazioni nelle diverse ali, alla sud e alla nord, dei due artisti. Quindi sono opere la cui ricerca è concentrata dal 1987 al 2015 e sviluppano questo dialogo e anche la loro diversità perché bisogna anche crearsi e farsi le domande proprio concentrandosi sul tema dei processi della natura. La mia relazione con la natura è una cosa di riflettere di riflettere, di riflettere, di riflettere, di riflettere e di riflettere. E ripollare la natura, di riflettere, di riflettere e di cambiare. e di riflettere in modo che le persone, anche quando abbiamo il miglioro di intenzione, ci sono molte conseguenze che risultano da un'attività, e che sono sempre buono, ma soprattutto per il miglioro, in terms of our unintended consequences but so yeah my relationship is simply one of reflecting and meditating on our our relationship the idea of language that's interesting to me is language as a set of elements and a set of rules by which those elements are combined so to me what's interesting about that is the contrast or contradiction between constraint and almost infinite possibilities or infinite variations so for instance when I look at a mushroom species I'm looking at at it as a language as as a series of components and rules and then creating within a field a infinite variability of form but always within these constraints so yeah to me it's it's the the contradiction between freedom and restraint the silo jb cubensis field it's 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 the earliest of my mushroom works but it's still um it still resonates uh quite strongly and I think it evokes this idea of the field and this um infinite variation possibility quite well so you